Poi vi ricordo che oggi siamo in onda, quindi alle 14.45, il trono classico. Ieri c'è stato tutto un fraintendimento su una questione legata ad Andrea Damante. Io delle volte leggo delle cose e rimango sconvolta e poco, perché non so perché dobbiate pensare e dire che ci sono dei problemi fra me e Andrea che veramente no, proprio nel modo più assoluto, quindi no, insomma chiedete anche al diretto interessato che vi confermerà quello che vi sto dicendo io, quindi non prendete ogni parola che uno dice come un attacco a qualcuno, uno scrive libertà o piuttosto che può dire delle cose senza un retropensiero, state sempre a pensare a dei retropensieri assurdi, assurdi.